Ciao! Ti sei mai chiesto perché dinanzi a un fiore, ad un paesaggio, rimani incantato e dici che bello? Ti sei chiesto invece perché dinanzi a certi scenari dici ma che schifo! Un fiore mantiene la sua purezza perché è incontaminato, così come un paesaggio. E tu? Perché quando ti guardi allo specchio, o meglio ti guardi nel cuore, non ti vedi sempre bello? Perché forse ti sei lasciato contaminare? Perché forse i sentimenti cattivi sono entrati nel tuo cuore e lo hanno reso brutto? Allora vuoi tornare ad essere di nuovo bello? Comincia a fare un lavoro dentro di te. Entra nel tuo cuore e comincia a togliere tutto ciò che non va e che non ti fa stare bene.